In arrivo risorse per gli enti locali, in particolare per i piccoli comuni montani che potranno così migliorare i servizi resi ai cittadini e creare nuovo sviluppo per i territori. Stiamo parlando del nuovo bando del programma Interreg Italia-Svizzera che mette a disposizione 17 milioni e mezzo di euro per la parte italiana e 9,9 milioni di franchi per la parte svizzera. L'area interessata comprende 4 regioni italiane, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte e 3 cantoni svizzeri, Ticino, Grigioni e Vallese. A breve si potranno presentare le candidature per iniziative di partenariato di valore compreso fra 700 mila e 1 milione di euro. I settori interessati vanno dalla mobilità integrata e sostenibile ai servizi per integrazione delle comunità, fino al rafforzamento della governance trasfrontaliera. I contenuti del bando sono stati illustrati da Massimo Sertori, Assessore regionale, agli enti locali, montagna, piccoli comuni e rapporti con la Svizzera. Sì, a partire dal 26 giugno e fino al primo di ottobre saranno riaperti nuovi bandi per appunto questa programmazione degli Interreg che l'esperienza ci ha fatto vedere come abbiano avuto un forte successo. Sono più di 100 milioni di euro che sono stati finanziati con i progetti Interreg fino ad ora e quindi abbiamo fatto tutta una serie di azioni cercando di concentrare le risorse soprattutto su quei settori dove abbiamo visto che sono stati maggiormente interessati dai progetti passati. Dieci progetti che furono finanziati in provincia di Sondrio con il primo bando, 29 beneficiari. I finanziamenti concessi furono di oltre 8 milioni 445 mila euro, una cifra che potrebbe essere replicata con il secondo bando. Ricordiamo appunto che è da anni che si lavora su questo fronte, quindi la cooperazione fra i territori di confine. È una cooperazione che noi riteniamo importantissima, peraltro la Lombardia e la Vartellina, le province di Sondrio, di Varese, di Como che hanno questo contatto continuo e costante con gli amici della Svizzera, siamo confinanti, produrre questi progetti che in qualche modo vanno ad attenuare le differenze ma anche i collegamenti e quindi fare progetti insieme agli amici elvetici ha dimostrato a consuntivo che è una questione molto molto positiva e quindi andiamo avanti su questa linea. Grazie.